E penso che stia venendo qui... Cosa? D'accordo, Lukey, resta calmo, lasciamogli prendere qualcosa e dopo gli ciucchiamo il sangue, eh? Salve! Salve! Salve, salve, entri pure, prego! Vorrei registrarmi per diventare socio della videoteca. Ci servono due documenti con foto, deve essere residente a Piasetno e serve un deposito di cento sloti. Servono meno requisiti per un prestito. A lei. La ringrazio. Dia pure un'occhiata in giro mentre io preparo la sua tessera socio.